Salve a tutti e ben trovati per questo nuovo video, oggi vediamo una partita spettacolare dove il bianco sacrifica prima un cavallo, poi le due torri e infine anche la regina. C'è solo uno scacchista capace di fare ciò. Prima di iniziare ricordo a tutti di mettere mi piace a questo video, di iscriversi al canale, grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo. Ok eccoci qui con i pezzi bianchi gioca Mikhail Tal, campione del mondo di scacchi e conosciuto come il mago di riga, mentre con i pezzi neri gioca Simagin. Questa partita quando venne giocata finì su tutti i giornali e tutte le riviste scacchistiche dell'epoca. Tal inizia con pedone 4, Simagin gioca c6, difesa Karokhan, segue pedone d4 e Simagin qui gioca una mossa piuttosto strana, ovvero pedone d6. L'idea di questa mossa è quella di rientrare in un sistema Pirz. Qui Tal prosegue con cavallo c3, segue cavallo f6, ecco qui siamo rientrati appunto nella difesa Pirz, è una variante particolare con il pedone c6, si chiama variante cieca, segue pedone f4 da parte di Tal, prende subito spazio sulla scacchiera, Tal è considerato il più grande attaccante della storia degli scacchi, donna b6 da parte del nero, cavallo f3, Tal continua lo sviluppo, alfiere g4, qui il nero mette pressione sul cavallo in f3, per poi voler catturare il pedone in d4, Tal difende semplicemente il cavallo sviluppandolo alfiere, alfiere 2, si prepara ad arroccare, il nero continua con cavallo d7, segue pedone e 5, ecco qui Tal non perde mai tempo, Tal appena può cerca di attaccare, qui cosa succede? Cavallo d5 da parte del nero e Tal continua lo sviluppo, vedete non perde mai tempo, lui arrocca, ha praticamente messo il real sicuro, ha un'ottima posizione, si fa doppiare tranquillamente i pedoni in c3, infatti qui Simagin prosegue con cavallo per cavallo, segue pedone per cavallo, come vedete Tal si ritrova con due pedoni doppiati, ma ha un sacco di spazio, ha la coppia degli alfieri molto forte, anche il nero ha la coppia degli alfieri, ma il nero è rimasto un pochino indietro con lo sviluppo, deve muovere questo pedone di sviluppare l'alfiere, deve arroccare, cosa alquanto improbabile se giochi contro Tal. Segue pedone e 6, la parte del nero, e Tal inizia subito ad attaccare, ovvero gioca cavallo g5. Dopo alfiere per e2, donna per e2, il nero qui si preoccupa, cerca di cacciare via il cavallo da g5, ma Tal non ritorna indietro e decide di sacrificarlo in f7. Tal quando giocava a scacchi voleva fumare e sacrificare un pezzo in f7. In questo caso Simagin sembra averlo accontentato. Segue re per f7, pedone f5, Tal vuole aprire la colonna f, pedone per e5, pedone per e6, re per e6 e guardate un po', dopo 14 mosse il nero si ritrova con il re al centro. Contro Tal questo capitava molto spesso effettivamente. Ora Tal gioca una mossa veramente assurda in questa posizione. Guardate cosa gioca. Torre b1 decide di sacrificare un altro pezzo. Lui era veramente ossessionato dal sacrificare pezzi. Si ingegnava in tutti i modi possibili per cercare di sacrificare. Qui sacrifica la torre, donna per torre, donna c4 scacco, re d6, alfiere a3 scacco. Ecco perché ha sacrificato la torre, perché vuole catturare la donna in b1. Ok, ma a che prezzo? Vediamo. Re c7, torre per b1, alfiere per a3. Raggiungiamo questa posizione dove a Tal rimane solo donna e torre, mentre il nero ha due torri, cavallo e alfiere. A livello materiale il nero sta meglio, ma a livello posizionale no. Perché? Perché le due torri non si sono mai mosse, non sono per niente attive e in pezzi del nero non sono coordinati tra loro, non collaborano. Quindi il vantaggio materiale del nero qui è completamente inutile. Tal prosegue con donna b3, attacca l'alfiere in a3, minaccia donna per b7 scacco. L'alfiere viene spostato in a7, segue donna per b7 scacco appunto. Il nero ora deve stare molto attento, non può venire in d8 altrimenti perde la torre. Quindi per mantenere le torri in comunicazione gioca re d6, segue pedone per e5 scacco, cavallo per e5, torre d1 scacco. Record di scacchi in questa partita. Tal aveva in mente solo il re dell'avversario, voleva distruggerlo. Io fossi stato in Simagin qui sinceramente avrei preso il re della scacchiera e gliel'avrei dato a Tal. Avrei abbandonato in questo modo. Invece qui Simagin continua a giocare, gioca re e6, Tal continua con donna b3 scacco, guardate quanti scacchi. Re f5, torre f1 scacco, re e4, guardate che roba. Il pezzo più avanzato del nero è il re. Da notare che le due torri non si sono mai mosse. Questo significa che è come se non ci fossero proprio sulla scacchiera. Torre 1 scacco, re f5, pedone g4 scacco, un pazzo veramente. Michael Tal ragazzi, il più grande attaccante della storia degli scacchi. Scacco di pedone. Se il re cattura perde il cavallo. Se il cavallo cattura perde l'alfiere oppure può seguire donna e 6 scacco per cercare dare scacco matto. Allora il nero gioca re f6, torre f1 scacco, re g6, donna e 6 scacco, re h7 e finalmente Tal interrompe tutta questa serie di scacchi e gioca donna per cavallo. Guadagna un pezzo. Torre h8, finalmente il nero cerca di attivare le torri, ormai sembra comunque essere tardi. Torre f7, Tal vuole dare scacco matto in una mossa in g7, alfiere f8 per parare lo scacco matto, donna f5 scacco, il re va in g8, re f2. A cosa serve re f2? Re f2 serve a impedire che il nero possa mettere le torri in colonna con guadagno di tempo, ovvero torre 1 scacco e torre e8. Quindi il re qui controlla la casa e2 e soprattutto e1. Segue alfiere c5 da parte del nero, Tal gioca re g3, torre 3 scacco, re h4. Devastante. Tal vuole venire ad attaccare con il re. Sfrutta ogni risorsa per attaccare, veramente troppo troppo forte. Qui Simaghin gioca torre a e8, mette la torre in gioco, non difende l'alfiere, ma Tal comunque non lo vuole l'alfiere. Gioca torre per g7, come se non fosse abbastanza, sacrifica anche un'altra torre. Re per g7, ora Tal è rimasto solo con la donna, non è che può sacrificare la donna, altrimenti non può vincere solo con il re. Quindi segue donna per alfiere e entriamo in questo finale con donna contro due torri, dove a gioco corretto Tal ha solo un piccolo vantaggio. Però la posizione è molto difficile da giocare per il nero. Qui Simaghin gioca torre e6, decide di difendere il pedone in c6, lascia quello in a7, Tal cattura il pedone in a7 con scacco, segue re g6, donna in a8, con l'idea di attaccare il pedone in c6 e di venire da dietro per iniziare a dare scacco, segue re f6, pedone a4. Ecco qui, Tal cerca di sfruttare il suo pedone passato per andare a promozione. Simaghin qui non si sa bene cosa stia facendo, re 5 dall'inizio della partita che va a giro con il re, pedone a5, re d5, quindi l'idea è quella di venire a difendere con il re, ma Tal inizia a dare scacco, re 4, pedone a6, re f3, pedone a7. Ormai questo pedone non si può più fermare. Vediamo il nero cosa fa, mossa della disperazione, torre e2, vuole dare scacco matto in h2. Tal quindi decide di dare scacco a re e dopo torre e3 decide di sacrificare anche la regina. Qui Simaghin prende e finalmente abbandona. Perché abbandona? Perché ad esempio dopo re per donna, qui il re del bianco ha disponibile la casa g3, non c'è più il tema di scacco matto e il bianco può andare tranquillamente a promozione. Quindi seguirebbe pedone a8 a promozione e qui non ci sarebbe niente da fare. Mamma mia che partita, veramente stressante giocare contro Tal. Ti puntava il re e iniziava a sacrificare tutti i pezzi, una roba da matti. Grazie a tutti per la visione di questo video, vi ricordo di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima!